Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi ho deciso di dedicare un video intero ad una autrice che mi ha letteralmente conquistata. Sto parlando di Valérie Perrin. Questa sarà l'unica volta in cui mi sentirete pronunciare il suo cognome perché è un'attrice francese ma non vorrei sbagliare la pronuncia, quindi per noi sarà Valérie. Comunque, autrice di due romanzi che ho letto recentemente, mi sono piaciuti talmente tanto che ho deciso di dedicare all'autrice e alle sue opere questo video. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Le due opere che ho letto di questa autrice, che poi sono le uniche che ha scritto e che sono anche pubblicate appunto in Italia, sono Cambiare l'acqua e i fiori e Il quaderno dell'amore perduto. Due libri bellissimi, non vedo l'ora di parlarvene. Partiamo prima da un piccolo accenno di trama per entrambi. Parto dal quaderno dell'amore perduto perché è il primo romanzo che l'autrice ha pubblicato. La protagonista è Justine, una ragazza di 21 anni che lavora in una casa di riposo, le Ortenzie. Quindi un lavoro molto particolare per una ragazza così giovane, ma lei adora, ama il suo lavoro perché ama prendersi cura delle persone anziane che si trovano presso la casa di riposo. Lei vive insieme a suo cugino, che in realtà considera come un fratello e vivono entrambi, sono stati cresciuti dai nonni. Questo perché, questo si scopre praticamente subito nel libro, quindi non è uno spoiler, entrambi i ragazzi hanno perso i genitori in un incidente d'auto e quindi appunto sono stati cresciuti dai nonni. Quindi abbiamo la storia di Justine e quindi come lei gestisce la sua vita e il suo lavoro, ma in realtà la storia si arriva molto più indietro perché da una parte la protagonista a un certo punto della storia si ritrova a dover fare conti un po' con un passato molto torbido e misterioso che richiede la sua attenzione e soprattutto che la trova, insomma, incuriosita. Lei ha bisogno di scoprire la verità. E inoltre la storia si alterna a quella di Hélène. Hélène è una signora anziana che vive alla casa di riposo dove lavora Justine e negli anni ha raccontato alla giovane infermiera la storia della sua vita. Essendo una storia molto intensa, anche a tratti drammatica, ma sicuramente una storia molto emozionante, Justine ha deciso di riscrivere questa storia in un quaderno azzurro che porta sempre con sé. E quindi ogni tanto siamo proiettati nella vita di questa signora anziana una vita interessantissima e ci viene raccontata. Per quanto riguarda invece il suo secondo romanzo, Cambiare l'acqua e i fiori, che poi in realtà è il primo che io ho letto, la protagonista si chiama Violette. Lei ha un mestiere, fa un mestiere molto particolare. Lei è la guardiana di un cimitero. E beh, voi penserete, oddio, non ci sarà niente... Stop! Perché c'è un piattone. Brava! Senti, è vero, è sop. Io li metto qui perché così sento sia le macchie, sia i trattori, sia tutto. Vai! Lì, perché così posso dire anche da lì, sop e... Certo! Vado a fare la tivi. Vai! E dopo il torno. Vai! Insieme. Quindi praticamente il suo ruolo è quello non solo di vendere i fiori alle persone che vengono a trovare i propri cari, ma proprio per rendersi cura del cimitero, delle piante, pulire le tombe, gestire i rapporti con i becchini, con l'agenzia funebre, aprire e chiudere il cimitero. Ma insomma, il suo ruolo in realtà va molto oltre a questo perché è anche un punto di riferimento per tante persone che si trovano appunto a dover seppellire in quel cimitero i propri cari, i propri amici e così via. La storia in realtà ovviamente non è solo questo perché quello che veramente costituisce il cuore di questa storia è la vita di Violette. Quindi vediamo come Violette si è arrivata a fare quel mestiere e la sua vita viene raccontata fin da quando era una bambina. Una vita turbolenta, una vita che l'ha vista soffrire, una vita che veramente merita di essere letta ma che vi farà provare delle emozioni fortissime. E oltre a questo, anche in questo caso, come nel libro precedente c'è anche una piccola storia alternativa di una grande storia d'amore che lei scopre proprio grazie al suo mestiere di guardiana di un cimitero. Questo giusto per farvi una panoramica di quali sono le storie che lei racconta ma adesso entriamo un po' più nel vivo. Valérie è un'autrice francese che era prima una fotografa di scena e anche una cosceneggiatrice ma in realtà insomma è molto conosciuta è conosciuta per i suoi romanzi. Difatti ha pubblicato il primo libro nel 2015 e il secondo nel 2018 ed entrambi hanno vinto numerosissimi premi. E infatti vi devo anche dire che Cambiare l'acqua e i fiori è stato uno dei libri più venduti in assoluto in Italia durante tutto il 2020. Perché mi piace tanto questa autrice? Vi dico la verità, lei secondo me scrive delle storie che io stessa vorrei scrivere. Infatti il modo in cui tesse le trame è molto simile in alcuni punti anche alle trame che io amo tessere nei miei romanzi. Ovviamente lei lo fa in una maniera molto migliore della mia è sicuramente molto più brava ma questo non significa che io forse trovi interessanti le sue storie proprio perché le sento molto personali. Un aspetto comune di entrambi i romanzi è il fatto che ci sia una profonda ode alla vita ma l'autrice lo fa in una maniera molto particolare perché da una parte c'è un cimitero dall'altra una casa di riposo due luoghi che obiettivamente non associamo alla vita anzi la associamo alla fine della vita. E' proprio questo il bello il fatto che le protagoniste in entrambi i romanzi trovino la vita proprio in questi posti perché il cimitero non è un luogo di morte ma è un luogo dove le persone possono ritrovare i propri cari quindi ricordare la loro vita trovare un po' di conforto quindi in realtà è un luogo dove andare anche a cuor leggero e così sono le ortenzie questa casa di riposo che ospita insomma la storia dell'altro romanzo. Anche in questo caso la protagonista in realtà riesce a trovare la vita nelle storie che le vengono raccontate dagli anziani della struttura infatti una frase bellissima che ho trovato all'interno di questo libro è stata che ogni volta che muore un anziano si dice è come se venisse bruciata un'intera biblioteca quello che fa la protagonista ovvero quello di riscrivere trascrivere le storie di queste persone è praticamente come se volesse salvare almeno parte delle ceneri quindi insomma secondo me anche questo qui questi sono messaggi veramente molto belli i vari personaggi descritti da Valérie sono incredibili perché sono dei retratti della vera natura umana ci sono personaggi capaci di sentimenti profondissimi sia positivi che negativi quindi abbiamo personaggi in grado di provare un amore una compassione sconfinati ma anche personaggi in grado di fare quasi paura perché la loro natura è quasi direi appunto pericolosa animalesca ma la cosa bella è che lei riesce a descrivere questi personaggi con tante sfaccettature quindi la stessa persona che per tutto il libro è stata praticamente un personaggio tremendo un determinato evento potrebbe davvero colpirlo e in qualche maniera farci capire provare i suoi sentimenti metterci nei suoi panni in qualche maniera anche condividere quello che sta provando quindi questo secondo me è la bravura questa è la bravura dell'autrice nessuno è solo buono o solo cattivo ci sono tante persone che nella vita hanno fatto tanto del male ma che poi vivono delle esperienze che le tocca nel profondo e vivono delle emozioni assolutamente umane e condivisibili quindi anche questo secondo me è un tratto a favore inoltre in entrambi i libri viene raccontata una grande storia d'amore due storie d'amore diverse ma comunque si vede che l'autrice crede nell'amore crede nell'anima gemella perché in entrambi i casi insomma ci sono delle storie a volte anche un po' travagliate però con dei sentimenti sconfinati ecco quindi mi ricollego anche al fatto dei sentimenti direi che Valérie parla soprattutto dei grandi sentimenti quelli che un po' proviamo tutti quindi l'amore, la gelosia l'amore per un'altra persona quindi tra due partner oppure anche l'amore per i figli o per i propri genitori insomma delle emozioni forti che sono alla base un po' della nostra natura umana ma non lo fa mai in maniera banale o scontata anzi riesce a rendere queste emozioni così vivide e così forti che ci sembra di provarle anche noi per la prima volta la lettura di entrambi i romanzi è molto scorrevole perché lei ha una scrittura molto coinvolgente i capitoli sono brevi quindi abbiamo voglia di andare avanti e soprattutto in entrambi i romanzi si alternano i punti di vista le storie si intrecciano quindi veramente ci sono tutte le caratteristiche tutti gli ingredienti per fare un libro perfetto che non vediamo l'ora di terminare per vedere come va a finire ma allo stesso tempo un libro che quando abbiamo finito ci manca inoltre in entrambi i romanzi è stato inserito un piccolo mistero da risolvere non posso aggiungere altro, lo capite ogni cosa che c'è all'interno di questi romanzi aiuta a farci sentire ancora più partecipi della storia inoltre ho notato che in tutte e due le storie si parla di una sorta di adozione oddio non è proprio l'adozione classica quindi due persone che non possono avere figli e decidono di adottare però si parla in entrambi i casi di vite un po' particolari di bambini che vengono cresciuti da persone che non li hanno necessariamente concepiti ovviamente non voglio fare spoiler l'unica cosa che posso dirvi è che nel quaderno dell'amore perduto ad esempio abbiamo la protagonista che è stata cresciuta dai nonni quindi è anche bello vedere questo genere di rapporto tra genitori e figli che io ovviamente anche grazie al vissuto che ho alle spalle ho trovato molto interessante infine l'ultimo argomento che voglio toccare riguardo a questi romanzi l'argomento del tempo perché diciamo che prima di tutto le storie sono ambientate in parte ai giorni nostri ovviamente in parte nel passato ma la cosa bella è che riesce perlomeno a me faceva questo effetto riesce a creare un vero stacco tra la storia del presente e la storia del passato ad esempio nel romanzo il quaderno dell'amore perduto c'è appunto la storia ambientata ai giorni nostri che sembra nella nostra mente è bella, vivida, nitida mentre c'è la parte dedicata alla storia di Hélène a quello che ha vissuto questa signora ospite della casa di riposo ecco quando ci sono le parti relative a questa storia è come se nella mia mente io vedessi una pellicola di un film vecchio di tanti anni fa con delle sfumature un po' giallognole proprio un'atmosfera totalmente diversa e questo credo sia meraviglioso perché io non sto guardando un film ma sto leggendo un libro eppure le immagini erano veramente create alla perfezione nella mia testa e proprio in riferimento al tempo un grande insegnamento che Valérie vuole lasciare attraverso le sue storie è quello di vivere il momento presente quindi non rimanere incollati al passato in entrambi i romanzi infatti le protagoniste sentono il passato bussare alla loro porta c'è qualcosa che non è concluso devono risolvere i loro conti con il passato nel momento in cui l'hanno fatto possono davvero vivere il loro presente e soprattutto scoprire che il passato non ci determina necessariamente per come siamo adesso ma che quello che vogliamo lo possiamo realizzare nel qui e ora quindi insomma io spero con queste parole di avervi convinto che questi due romanzi meritano tantissimo questa autrice merita di essere letta perché secondo me è capace di toccare nel più profondo del vostro animo insomma è una grandissima scoperta devo dire che al momento è probabilmente tra le mie autrici preferite se non la mia preferita perché davvero mi ha cambiata dentro grazie alla lettura di cambiare l'acqua ai fiori ho anche deciso di approcciarmi alla vita in maniera diversa più legata alla natura ai ritmi naturali della vita insomma è un libro veramente capace di cambiarci e di farci capire quali sono le cose importanti della vita fatemi sapere se avete letto questi libri se avete intenzione di leggerli mi fa sempre piacere e noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao ciao ciao